È giunta l'ora, Lorenz. È il momento di svelare a tutti il futuro di questa galassia. Il futuro che io ho stabilito! Scusi, ha detto qualcosa, signore? Il meccanismo di attivazione, ora! Ammirate l'ultimo capitolo della storia di questa galassia. L'epoca del robot! Tu sei il mio, ma te il robot! I grissenti non fanno sarsa solo perché... Lorenz! Oh, cielo! Era la sua audizione per operazione robot, vero? Oh, che errore, signore! Le faccio le mie scuse! Vado pure avanti, signore! Continui!